Area sicura rilevata. Richiesta di supporto. Dragov ha completamente isolato Wall Street, ma diversi agenti stanno cercando i punti deboli del complesso. Ce n'è sempre uno. Raggiungi l'insediamento locale. Gli agenti l'hanno usato come rifugio, lasciando rapporti per quelli che sarebbero venuti dopo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.